Il caso Consip, il GIP di Roma, ha respinto la richiesta di archiviazione per Tiziano Renzi, padre dell'ex Presidente del Consiglio. L'imprenditore è accusato di traffico di influenze illecite. La Procura Capitolina aveva sollecitato l'archiviazione nell'ottobre scorso. Non gridiamo all'occasione, lo ci difenderemo davanti al giudice, la replica dei legali.